nel prossimo webinar della serie chiedi agli esperti sempre rigorosamente in italiano mostreremo come Cisco Secure Firewall sia un eccezionale strumento di monitoraggio di quello che sta succedendo nella nostra rete per prima cosa vedremo come da una dashboard come questa sia possibile ottenere dati rilevanti già ad una prima occhiata ad esempio per riuscire a capire quali sono i host all'interno della nostra rete che sono compromessi quali sono ad esempio le minacce che stanno arrivando dall'esterno vedremo poi come analizzare gli eventi di intrusione in modo efficace per capire quali sono quelli veramente rilevanti che richiedono l'attenzione di un SOC in tempi rapidi parleremo quindi di del concetto di impatto di come l'impatto di una intrusione viene misurato un ulteriore strumento sono i report la reportistica vedremo come sia possibile esportarli in formato ad esempio pdf per condividerli con il resto dell'organizzazione come il management per mostrare un quadro chiaro e completo della situazione delle minacce nella nostra rete vi aspettiamo quindi il 17 febbraio vi invitiamo a registrarvi per la prima di cinque sessioni su sisco secure firewall grazie